Fabio Pasquinelli, Potere al Popolo, candidato nel proporzionale alla Camera, quali sono i temi principali, gli asse portanti della sua campagna elettorale? Innanzitutto la grande emergenza di questo Paese, cioè il lavoro e l'economia. Noi siamo convinti nella necessità di un ritorno dello Stato nell'economia, di un intervento diretto pubblico per il rilancio della piena occupazione. Siamo per questo favorevoli a una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e vogliamo la ripubblicizzazione dei servizi pubblici, così come sancito dal referendum popolare del 2011. Quali sono anche i temi inerenti a questa zona? Essendo un candidato del territorio ci saranno tematiche più strettamente legate al territorio? Primo tra tutti la sanità. In questo territorio il piano sanitario regionale, sostenuto dall'amministrazione del Partito Democratico e di Liberi Uguali, tende a una progressiva privatizzazione del servizio sanitario. Noi invece vogliamo una sanità pubblica, una sanità gratuita ed efficiente. Siamo contrari alla chiusura e alla destrutturazione degli ospedali sul territorio. Sono Fabio Pasquinelli, sono candidato nel collegio della Camera Marche Nord per Potere al Popolo.